La comunità di Ponte Nosse si appresta a chiudere un anno particolarmente importante per il nostro paese, l'anno Santo Mariano che è iniziato il 5 dicembre del 2010, allora c'è stata l'apertura della Porta Santa da parte di Monsignor Tonucci che come delegato pontificio ci ha onorato della sua presenza. E' stato un anno molto ricco, ovviamente culminato con la festa solenne del 2 giugno, quando alla presenza del nostro Vescovo di Bergamo, Monsignor Beschi, abbiamo appunto solennizzato questo 500esimo. In questi giorni la nostra comunità sta vivendo un altro periodo particolare, con le missioni parrocchiali, aiutati da missionari laici di Assisi e Piacenza, che ci stanno appunto accompagnando a questa chiusura. La chiusura sarà l'8 di dicembre con la messa delle 18, ancora con la presenza del nostro Vescovo. E momento importantissimo in questa celebrazione sarà la rincoronazione del nostro affresco miracoloso. Questo perché abbiamo appunto voluto solennizzare il 500esimo e a questo proposito lasceremo anche una targa ricordo, anche questa inaugurata sempre dal Vescovo, giovedì sera. L'invito poi per tutti, innanzitutto ripeto la Santa Messa delle ore 18, ma poi la sera alle ore 21, ci sarà un concerto particolare e molto importante a chiusura di tutti gli eventi che hanno caratterizzato questo anno magnifico. Durante questa serata verranno poi anche ricordati i parroci precedenti e soprattutto la comunità di Premolo, perché dobbiamo ricordarci che il 2 giugno del 1511, quando c'è stata questa apparizione, la parrocchia era quella di Premolo. E quindi è un ricordo doveroso, ma ovviamente facciamo ben volentieri, invitiamo quindi tutta la comunità di Premolo a questo concerto.